Ciao a tutti, oggi ti porto in anteprima le anticipazioni della puntata di sabato 10 giugno. La puntata parte con Beaccais, che si dirige da Mugeigan per recuperare alcuni oggetti dimenticati, ma non la trova. Decidendo di cercarla, entra nella sua camera dove si imbatte in una lettera scritta da lei, indirizzata a Ilmaz. Preso dallo sconforto, Beaccais si precipita nel bagno, solo per trovarvi Mugeigan immobile nella vasca, le vene tagliate. Agendo istintivamente, Beaccais cerca di fermare il sanguinamento ai polsi di Mugeigan e chiama immediatamente i soccorsi per farla trasportare in ospedale. Nel frattempo, al tribunale, il giudice avverte gli avvocati di Demire e Ilmaz che saranno puniti per aver estratto le armi in aula. Entrambi sono ora rinchiusi in celle di sicurezza. Mugeigan viene portata d'urgenza in ospedale, dove i suoi colleghi la conducono in sala operatoria. Beaccais ordina i due uomini che l'avevano accompagnata di cercare Ilmaz e Fekeli. Ankar e Fekeli sono fuori dall'aula delle udienze e sono preoccupati per le conseguenze che i loro figli dovranno affrontare. Yulide cerca di rassicurarli dicendo che parlerà con il giudice per aiutarli. Quando le viene chiesto della sorte di Zulia, Yulide risponde che la dichiarazione di Demire ha peggiorato la sua situazione. Zulia torna in cella profondamente triste e trova conforto nell'aiutare Mustafa. il bambino che vive con loro, a fare i compiti. Tuttavia, durante una conversazione con sua madre, confessa di soffrire per la lontananza dai suoi figli e dell'incertezza su come stiano e come vivano. Yulide ritorna al suo ufficio insieme a Sebaten e si rammarica del fatto che sarà estremamente difficile per Zulia uscire di prigione. Nonostante avesse sostenuto la sua versione dei fatti, la testimonianza di Demire ha peggiorato ulteriormente la sua situazione. Zulia viene chiamata per un colloquio e Sebaten la rassicura che Yulide farà tutto il possibile per farla liberare. Nel frattempo, sia Ilmaz che Demir rimarranno in prigione per alcuni giorni a causa degli eventi accaduti in aula. Zulia teme che Demir farà tutto il possibile per mantenerla in prigione, ma si impegna a rimanere forte per i suoi figli. Tuttavia, preoccupata che Demir possa cominciare a odiare Adnan a causa sua, chiede a Sebaten di non permettere che il bambino venga maltrattato o allontanato. In tal caso, gli chiede di rivelare a Ilmaz che Adnan è suo figlio. Ankar e Fekeli sono sconvolti per quanto accaduto in tribunale e si rendono conto che non possono fare altro che pregare per i loro figli. Ankar confessa a Fekeli di aver parlato con Demir per cercare di convincerlo a testimoniare a favore di Zulia. Sabahattin viene informato che Mujeygan è stata ricoverata in ospedale dopo aver tentato il suicidio tagliandosi i polsi. Sebahattin raggiunge la camera di Mujeygan, dove Beaccais la sta vegliando. Beaccais gli rivela che Ilmaz vuole divorziare da Mujeygan e che questa notizia ha spinto Mujeygan a tentare il suicidio. Sabahattin la rassicura dicendole che non ha reciso l'arteria e si riprenderà entro due giorni. Beaccais confida a Sebahattin che nonostante tutto ciò che ha passato, Ilmaz pensa solo a Zulia e non sa nulla di ciò che è successo a Mujeygan. Sebahattin promette di parlare con Ilmaz per cercare di farlo cambiare idea sul divorzio, perché non è giusto che Mujeygan stia pagando per le azioni di Zulia. Beaccais gli risponde che non le interessa nulla di Zulia e che Mujeygan ha rischiato la sua vita. Sebahattin ribatte che la vita di Zulia è stata rovinata a causa delle azioni di Mujeygan. Beaccais dice che Zulia avrebbe dovuto controllarsi e non sparare a suo marito, ma Sabahattin le fa notare che mentre Mujeygan riprenderà la sua vita con suo figlio tra due giorni, per Zulia non c'è speranza di uscire di prigione. Fekeli viene a conoscenza della situazione di Mujeygan tramite Naziree e si precipita immediatamente in ospedale, dove incontra Beaccais. In quel momento, Mujeygan si sveglia e chiede a sua zia perché l'abbia salvata e che non vuole vivere senza Ilmaz. Fekeli la abbraccia e le promette che tornerà presto con Ilmaz per crescere il loro bambino insieme. Mujeygan fa ritorno a casa e viene circondata dalla zia, che le dice che Ilmaz è rimasto accanto al suo letto e non l'ha mai abbandonata. Più tardi, Beaccais si incontra con Naziree ed Emine, che si lamentano di lei. Beaccais le avverte di non mettersi contro di lei e le minaccia di licenziare. Successivamente, parla con Fekeli e si arrabbia con Ilmaz e Zulia per ciò che è successo a sua nipote. Fekeli le risponde che l'errore commesso da Mujeygan ha conseguenze per tutta la famiglia e che Ilmaz ha il dovere di rimediare, e sta cercando di farlo. In quel momento, Naziree ed Emine si avvicinano e chiedono a Fekeli se ha qualche lamentela nei loro confronti e se intende licenziarle. Beaccais interviene dicendo che le ha trattate male perché era sconvolta per Mujeygan. Fekeli chiede alle due donne di accettare le scuse e di rimanere calme. Poi, Fekeli dice a Beaccais che anche quando si è arrabbiati, non si dovrebbe mai spezzare il cuore delle persone. Atip raggiunge Gaffur alla tenuta mentre sta lavorando e, dopo una lunga discussione, gli chiede di restituirgli le ricevute in cambio dei pagamenti per i soldi che gli aveva prestato. Gaffur gli dice che non ha le ricevute e lo accusa di averlo fatto ubriacare, derubare e indebitare con lui. A quel punto, Atip afferra Gaffur per il collo e lo sbatte contro una colonna, intimandogli di non prenderlo in giro. Stringe sempre di più le mani intorno al collo di Gaffur, privandolo dell'aria. Atip viene bloccato da un colpo di fucile sparato da Sanye. Chiede a lei la restituzione delle ricevute mentre si avvicinano dei lavoratori, oltre a Gulten e Ankar. Sanye racconta a Ankar come Atip abbia ingannato Gaffur. Atip nega e giura la sua innocenza a Ankar. Ma in quel momento arriva Natsiai che lo accusa di furto. Atip nega nuovamente e le chiede come possa accusarlo essendo sua moglie. Lei gli risponde che lo fa perché è un truffatore e lo manda via. Atip se ne va minacciandola. Durante il tempo trascorso da Natsiai nel salotto con Ankar e Sanye. Queste ultime la ringraziano per essere intervenuta a favore di Gaffur e per essersi schierata contro suo marito. Nel frattempo, Chiede ne è con Gulten e le comunica che la madre è molto felice per loro due. Si scusa ancora per il mancato fidanzamento e le dice che vorrebbe sposarla subito senza cerimonie. Ma poi pensa che sarebbe bello se indossasse un abito da sposa e avere delle foto da mostrare ai loro figli. Gulten risponde che devono aspettare perché non possono essere felici mentre gli altri sono tristi. Chetine le risponde che sono fortunati ad amarsi e che aspetteranno fino a quando potranno avere un grande matrimonio. Dopo che Natsiai e le altre donne rimangono sole, Natsiai confida a Ankar di non poter permettere che Sanye paghi un debito a causa di Atip e Gaffur. Poi, parlando di Zulia, Natsiai rivela che sta soffrendo molto a causa di Demir. Ankar risponde che lo sa, ma che Demir l'amava così tanto, e ora entrambi stanno soffrendo. Inoltre, Ankar riferisce che stanno cercando di far uscire Zulia dal carcere il prima possibile per farla riunire con i suoi bambini. Natsiai confida a Ankar che prega sempre affinché i suoi due figli maschi siano buoni e non diventino come loro padre. Ankar ammette di non aver cresciuto Demir nel modo giusto. Ma Natsiai le risponde che Demir capirà presto ciò che è successo e riporterà sua moglie a casa. Quindi di non perdere la speranza, iscriviti al canale e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!